bella a tutti ragazzoli e bentornati qui sul mio canale io sono maullo941 e siamo tornati a produrre giochi video e volate varie signori siamo qui siamo qui allora torniamo con minecraft in cui ripartiremo da zero signori avevamo iniziato una stagione in cui intitolata una serie intitolata il film di minecraft che era una gran cacata signori però va bene facciamo finta che non sia mai esistita lo lasciamo lì sul canale per chi ogni tanto volesse dare una gran cacata e torniamo però qui su minecraft carichi belli pieni di gioia e vediamo di fare finalmente una stagione giusta in cui inizieremo costruiremo andremo dal drago non ci perderemo in chiacchiere con costruzioni strane andremo dal drago e andremo nel void e vediamo di concludere un attimino in bellezza questa serie oltre a questa serie ci vedrò di portare anche altri video come avete visto nelle stories e ci siamo su instagram anzi seguitemi maullo941 e che stava di non lo so e sì dobbiamo tornare anche con fifa o fifa che sto aspettando che installi creeremo la nostra squadra e cercheremo di fare la carriera anche se ormai siamo un po in ritardo però è sempre bello farlo e anche con wwe quello nuovo di wrestling vedremo di fare qualcosa potrebbe esserci il ritorno di samantha che ha smesso col calcio e stedato al wrestling quindi signori 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 stiamo attenti detto questo io non perderei altro tempo partirei con la serie e vediamo dove ci spawna in questo mondo di meraviglie per non dire altro che signori siamo spawnati in mezzo alla foresta c'è già una pecorella e questa è un'ottima cosa io non vedo la pecorella ma vedo un carne e lana signori quindi aspettate un attimo che il nostro personaggio deve ancora capire un attimino come muoversi perfetto dai così tagliate punta tagliate tacco rompi st albero e non ci scassa niente niente partono i ricettari parte l'alberello già abbiamo recuperato un alberello ottima cosa signori ottima cosa e va bene io non gioco a minecraft da sì da un bel po di tempo signori da quando uscivano i video semplici sul canale della del film di minecraft che è stato un tentativo di fare dei video così veloci per tenere attivo un po il canale perché è stato un po in periodo un po particolare signori però ci siamo non passano gli anni ma non mi sono levato l'abitudine di dire signori sì bene sì continuo a dire signori senza motivo però lo continuo a dire allora allora non perdiamoci in chiacchiere prima cosa da fare prima cosa da fare creiamo la nostra bellissima il personaggio è questa bella biondona signori mi date un nome per questa bella biondona così avremo anche un nome per lei ci sono le apette che cosa carina le api me le ricordo le api me le ricordo allora mettiamo questo qua ok prima cosa da fare ovviamente sempre su minecraft sono gli sticchettini col quale puoi fare tante belle una una spada una spadozza di legno che ci sta intanto così possiamo andare a ammazzare la pecora poi facciamo anche un bel piccone no una bell'ascia una bell'ascia che ci sta pure e poi andiamo a fare anche un bel piccone così vediamo anche di recuperare un po di pietra e ci portiamo avanti signori taglia così taglia di punta taglia di tacco ma quanto è bello il minecraft o pecorella sei la devi essere devi essere orgogliosa per quella mia devi essere orgogliosa sei la prima pecorella della serie a essere uccisa bene dove tua sorella che c'è famo con solo pezzo di lana nulla la ci sono le api che sono carine le api ignoriamo le api perché se mi pizzicano siamo morti la c'è un alveare qua ci sono le pecore che cosa carina lo so che stai dicendo perché stai ammazzando le pecore che ti potrebbero servire ma tanto qui noi non ci stiamo a fa nulla pecorella mia anche tu sei morta tu e le tue sorelle avete fatto un grande favore alla serie al grande favore per questo momento sicuro non moriremo ok abbiamo tre pezzi di lana una caverna e del carbone signori si parte alla grande e qui c'è anche un bel fosso allora signori si parte subito alla grande del che che cazzo è questa che cazzarola è questa cosa non lo so signori qualcuno mi aggiorna su cosa è questa cosa qui che stiamo scavando che non si rompe quindi quindi mi sa che ci serve un piccone di pietra per romperlo e noi ce lo facciamo noi piano piano cefamo tutto cefamo tutto signori dobbiamo tornare alla grande dobbiamo tornare alla grande stiamo ricordando un po di pietra che effettivamente ora come ora non ci serve tantissimo non sappiamo nemmeno dove siamo però stiamo raccogliendo la pietra così a caso sì ma noi ci piace così essere alternativi essere alternativi recuperiamo tutto questo carbone che è ben di dio signor questo carbone è benedetto partire subito così e trovare subito il carbone è qualcosa di fantastico dai e così recuperiamo questo carbone dai e poi signori cosa è altro che posso raccontare ma che particolari niente di che ho un lavoro ho dovuto cambiare lavoro quindi diciamo che per questo sono mancato anche dal tanto dal dal canale però quindi sono stato un po assente per questo discorso ho cambiato lavoro per ora lavoro per post italiana è un lavoro bello divertente ho fatto qualche storia perché per ora mi trovo a lavorare su un'isola e per chi non la conoscesse l'isola di favignana e ogni giorno mi tocca andare la vai vieni però va bene e ganso e ganso come cosa è ganso e che dirvi signori che dirvi niente raccogliamo questo 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 carbone vediamo poi cerchiamo di esplorare più che altro la zona cerchiamo di capire dove siamo e cerchiamo anche di rimuoverci in maniera veloce rapida e in dolore questo quindi si prende col col ferro si col ferro col piccone di pietra penso ma sinceramente ce ne sbattiamo altamente la ceppa allora cerchiamo di capire in docazzarola siamo spawnati signori c'è un punto quanta cazzarola di betulla c'è sta mamma mia la betulla non mi piace come 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 albero troppo chiaro alla idea di salirla sopra così proprio facciamo esplodere il computer come se non ci fossero domani perché signori gli anni passano i video cambiano ma il computer rimane sempre lo stesso quindi sempre quella bella ciofeca di quando facevamo le live che si bloccavano tutte cose allora allora vedo delle zucche e poi non vedo più una cippa di nulla bene allora un'altra pecorella che sinceramente la pecorella ora come ora è carne e quindi io ti ammazzo pecorella perché sei carne anche a te signori non ti lascio qua sopra da solo a morire ecco abbiamo eliminato anche l'altra pecorella io direi io direi che intanto mi recupero quelle zucche che zitto zitto cacchio cacchio non si può mai sapere se zucche mi possono tornare utili dai così ok zucca 1 e zucca 2 e zucca 3 ok le tre zucche le abbiamo recuperate via 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 veloce rapido in dolore abbiamo recuperato anche dei fiori rossi perfetto che ne prendiamo anche un'altra botta così cefamo il letto e abbiamo il letto pure colorato allora non mi ispira niente signori io vedo alberi di qua alberi di là do cazzo allora andiamo andiamo da qua la vedo vedo della pietra pietra potrebbe essere altro carbone per noi a gratis così tanto per gradi no 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 ma che paranoia sta betulla signori non la sopporto la betulla la betulla non la sopporto allora carbone 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 recuperiamo recuperiamo questo carbone dai così dai così lo so che questo video è un po così perché stiamo recuperando solamente carbone però è anche carino questo stiamo qui a chiacchiere stiamo qui a passarci il tempo stiamo qui a discutere di niente perché non sto raccontando nulla però dai e dai e dai e allora allora dai dai così dai così oramai prendete mi si sta per distruggere questo questo piccone quindi recuperiamo anche un po di pietra così a caso se il mouse non si rincretinisce e direi che possiamo anche fermarci un attimino col carbone grandi scorte di carbone ecco questo primo video potremmo utilizzarlo o ritorno sul canale o grandi scorte di carbone dai 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 così il carbone non ci manca signori il carbone è qualcosa ecco a posto abbiamo perso il nostro bellissimo piccone allora il progresso signori il progresso il progresso che cazzo rossa fa questo così ok e poi facciamo tac e tac dai così tagliate punta tagliate tac abbiamo il piccone di pietra che ci spacca tutto ok piccone di pietra recuperiamo oramai quest'ultimo carbone che fanno lo lasciamo quasi cioè il carbone la bici di minecraft il carbone la bici ma in tutto questo abbiamo già fatto quattro livelli quattro livelli e io continuo a trovare carbone come se non ci fosse domani addirittura addirittura c'è un video solo di carbone cioè che cazzo ha fatto in questo video ho raccolto carbone ho raccolto carbone come se non ci fosse domani ho parlato inutilmente però va bene va bene allora signori io direi che questo primo video come ritorno sul canale potremmo anche fermarci qua tanto abbiamo abbiamo stiamo stiamo a raccogliere carbone come se non ci fossero domani quindi direi ci premiamo qui fatemi sapere se vi fa piacere il ritorno sul canale lasciate tanti like tanti commenti continuare a raccogliere carbone noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video ovviamente domani e niente signori vediamo un attimino di esplorare questa zona del 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 mondo e cercare un punto dove andarci a installare per costruire il nostro nuovo mondo qui su minecraft detto questo signori io vi ringrazio nel frattempo oramai scusatemi che bene le bandite per gli ultimi pezzettini di carbone dai e così dai 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 recuperiamo questi che siete arrivati fino a questo punto del video vi amo sappiate che vi amo e niente signori detto questo noi veramente per questo video ci fermiamo qui questo è finito stop ce n'è più no ok abbiamo distrutto mezza montagna per raccogliere il carbone ma ce l'abbiamo fatta ok signori detto questo mi affaccio detto questo noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video e grazie per i like e per i commenti ci vediamo sempre qui bella raga ciao ciao